La futura regina dei Belgi, Fabiola, entra trionfalmente in Anversa. Anche qui l'entusiasmo non è sofisticato, non è un'invenzione propagandistica. È in un'atmosfera di vera simpatia che Fabiola procede in terra belga. Baldovino ha scelto bene. Tito Schipa, nel corso di una tournée in Ungheria, deve sorbirsi a esibizioni canone. No, il maestro non è soddisfatto. E neppure noi. Si può morire, si può morire. I consigli di Schipa sono preziosi, valgono oro come la sua Ugola. Ugola vecchia, fa buon brodo. Il capitano dei Viola, Montuori, pare se la cavi decentemente coi pennelli. Non solo dipinge, ma riesce persino ad esporre e firma orgogliosamente Miguel. Qualche cosa tenta anche sul campo, sembra uno schema tattico di allenatore impazzito. Il pallone si vendica di un giocatore che, dicono a Firenze, di segna ma non segna, ci va di mezzo l'arte e la Fiorentina.